Amici di Radio News 24, ben trovati, nuovamente sulle nostre frequenze per questo nuovissimo appuntamento con Live Social in compagnia di Gianluca Losco. Ci trasferiamo in Toscana e più particolarmente siamo a Pisa insieme al nostro ospite Francesco Carli. Ben trovato Francesco. Buongiorno. Allora, Francesco è un consulente finanziario, quindi le chiedo come primissima domanda proprio come nasce questa sua passione. Questa mia passione nasce storica, io ho lavorato per tantissimi anni in un gruppo bancario italiano, ero responsabile, ho sempre fatto praticamente, ho seguito sempre il settore degli investimenti finanziari e poi a una certa data ho visto che non era più possibile lavorare con una certa serietà nei confronti dei clienti e ho scelto di passare alla libera professione a fare consulente finanziario per un altro gruppo internazionale. Perfetto, ecco quindi consulente finanziario poi insomma si intendono alla fine comunque molte attività insieme, insomma consulente poi è una parola molto molto generica. Diciamo che come consulente finanziario è una parola un pochino stretta perché si pensa soltanto al settore degli investimenti mentre il consulente finanziario raccoglie le necessità di una famiglia e cerca di portare le soluzioni più ottimali alle varie problematiche che si presentano.